La prima supercar cabrio, ed elettrica, della casa automobilistica di Maranello garantisce livelli di performance senza rivali, grazie a ben 1000 CV e tantissima tecnologia. Ecco le sue caratteristiche. Design interni di Ferrari SF90 Spyder Ferrari SF90 Spyder è la versione scoperta della SF90 stradale, altro bolide di Maranello, ed è la prima cabrio ibrida plug-in di serie prodotta dalla casa. Il design della SF90 Spyder si contraddistingue prima di tutto per la presenza dell'esclusivo tetto rigido retrattile RHT, attivabile con un pulsante, che scompare in soli 14 secondi anche quando l'auto è in movimento. L'accedura dell'aerodinamica rende questo bolide estremamente filante nelle linee e prestante, stessa maniacale attenzione anche per gli interni, confortevoli grazie ai sedili unici ed esclusivi. Accessori come il 1.8 elettrico regolabile, oltre all'utile touchpad intelligente e al quadro strumenti centrale interamente digitale, che sfrutta un innovativo schermo HD curvo da 16 la rendono molto tecnologica. Gestirla, almeno internamente, è facile, basta anche solo la vostra voce, pronunciando semplicemente ciao Ferrari. Motori e prestazioni della Ferrari SF90 Spyder La Ferrari SF90 Spyder deriva dall'esperienza sulle piste del cavallino rampante e sfrutta un gruppo propulsore ibrido plug-in che unisce il V8 turbo con tre motori elettrici, di cui uno al posteriore e due all'anteriore. Il risultato sono ben 1000 CV di potenza totale, gestiti dalla trasmissione automatica a doppia frizione di CT da 8 rapporti. Due punti grazie al suo motore e all'elettronica la cabrio di Maranello scatta da 0 a 100 km orari in 2,5 secondi, raggiungendo la velocità massima di 340 km orari. Chicche come il sistema attivo shut-off guarni posteriore e i cerchi forgiati con profili che richiamano il mondo della Feuno rendendola una vettura estremamente prestante e sportiva. Ultima chicca le quattro modalità di guida disponibili, come per la sorella a cielo chiuso, gestibili sempre dal manettino. La scelta del conducente è tra i drive, hybrid, performance e quali fa i prezzi e allestimenti di Ferrari SF90 Spyder. Per rendere ancora più esclusiva la SF90 Spyder ci sono davvero numerose opzioni tra cui scegliere, in pieno stile Ferrari, esiste. Infatti l'assetto Fiorano, che è l'allestimento rivolto ai clienti più sportivi e viene scelto dal 50% degli acquirenti, ma anche numerosissimi optional costosi ed esclusivi per personalizzarla al massimo. Attesa su strada nel secondo trimestre 2021 con prezzi a partire da 473.000 euro, la SF90 Spyder è stata creata per rendere l'esperienza a vettura aperta ancora più appagante, come dichiarato dal direttore tecnico Ferrari, Michael Leiters, che ha aggiunto che l'auto da particolare risalto al sound, definito metallico ed emozionante, come una sinfonia.